E all'angolo blu dalla Beat for Fire, Marta Biancamaria! L'incontro si svolgerà sulle tre riprese da un minuto. Prima ripresa! Vai Fede! Buono! Vai Fede! Vai Fede! Vai Fede! Vieni sulle mani! Bravo! Sulle mani Fede! Brava Fede! Fede dai dai! Mi taglia i colpi dai Fede! Sulle mani giù il mento Fede! Le mani! Vai vai vai! Fede sulle mani lavora! Impone il tuo di ritmo! Gioca! Gioca! Vai vai vai! Buono! Brava! Dai Fede! Subito! Dai Fede! Dai Fede! Dai Fede! Vai dai! Fede dai! È subito! Una ripesa! Buono Fede! Dai Fede! Dai Fede! Non a ruffare, Fede è tecnica. Buono Fede. Dai Fede, dai. Buono Fede, vai. Dai Fede, vai pure, bravo, dai. Vai Fede, gioca, gioca, gioca. Vai Fede, vai subito, dai. Dai Fede, 15 secondi Fede. Vai tu, vai tu Fede. Vai, vai, tienila lì, tienila lì. Vai Fede. Dai Fede, 10, 10. Dai Fede, seguila, dai. Buono Fede, vai. Buono, buono, vai Fede. Vai, giablo, giablo. Dai Fede, buono. Dai Fede, subito Fede. Sientra subito. Dai cazzo, subito Fede. Dai Fede, vai. Esci. Vai, vai tu Fede. Vai Fede, sulle mani. Sientra subito, sulle mani. Vai, vai. Prazza dame. Dai Fede, cazzo. Dai Fede. Dai Fede. Vai tu, vai tu. Vai Fede, vai tu, vai tu. Vai Fede. Vai Fede. Buono, bravo. Vai, finisci tu Fede. Vince all'angolo rosso. grande Fede per il prossimo incontro